L'eco distretto rappresenta una trasformazione di Marghera di tipo strategico, non stiamo salvando il salvabile di una vecchia attività né recuperando quello che è recuperabile sul mercato per trovare qualche posto di lavoro che naturalmente non va mai male ma non avrebbe respiro. L'eco distretto è un pezzo dell'industria del futuro quindi della Marghera del futuro e il ciclo del riciclo del vetro è una delle più avanzate componenti di questa nuova industria. Peraltro in questo caso si tratta di inserire Marghera nelle rotte dell'industria del riciclo del vetro di livello mondiale ed è un pezzo del distretto del riciclo perché il vetro precede la carta, precede il ferro, precede la plastica che stiamo già naturalmente trattando nella situazione attuale che vedrà uno sviluppo di ognuno di questi comparti sulla scala dello sviluppo che nei prossimi due anni avrà il distretto del vetro, il riciclo del vetro. Quindi siamo dentro una trasformazione importante di tipo strategico, di industria altamente tecnologica, qualificata che ha una grande prospettiva.